In occasione della presentazione del libro Fiumi d'Oro di Nicola Gratteri abbiamo voluto sentire il suo parere in merito allo scioglimento dei cinque comuni calabresi. Nel suo dire sostiene che bisogna dare maggiore potere ai commissari. Il commissariamento di un comune è ovviamente il blocco dell'attività politico-amministrativa. Purtroppo la norma andrebbe modificata nel senso di dare maggiore potere al commissario in modo tale che vada oltre l'ordinaria amministrazione. E quindi che possa dare qualcosa in più alla collettività. E anzi addirittura bisognerebbe avere maggiore potere per licenziare e vedere i criteri di selezione degli impiegati assunti durante la gestione mafiosa del comune. La Calabria che può cambiare? Certo può cambiare se c'è il concorso di tutti. Da parte nostra la Calabria può cambiare. Cioè noi faremo la nostra parte, non ci fermeremo, andremo avanti e faremo tante altre indagini importanti come ad esempio le indagini giorni. Però da soli non andiamo su una parte. Se la collettività non prende coscienza di denunciare e se non riusciamo noi a trasmettervi la convinzione che di noi vi potete fidare.